Ale, cima della via, me l'hanno appena detto, del spigolo bel vedere del vallone El Burcet in Valchisone Allora il posto è veramente molto bello, noi oggi siamo venuti qua perché doveva esserci il sole e in realtà non c'è stato il sole però non ha piovuto e è già tanta roba la via era asciutta ed è molto bella, veramente bella bella, tenuta bene, chiodata benissimo la roccia è eccezionale, ci sono dei punti dove proprio sono le zappone, non ti sembra vero bello, bel granito e basta, c'è poco d'altro da dire, i colori dell'autunno qua sarebbero eccezionali ma ci vorrebbe una luce più bella, saluti, sempre con la sigaretta in bocca sta qua, ciao